eccoci di nuovo qui sempre messi abbastanza male ma finalmente abbiamo tutti i pezzi degli scacchi dovremo riuscire finalmente ad andare data allora abbiamo detto qui il pedone rimetto come stavano poi qui avevo messo la regina qui era il buco vuoto che mi era rimasto quindi in teoria ci vorrebbe andare il re qui c'era il cavallo esaminiamolo che non l'avevo ancora esaminato qui ci avevo messo la torre sì che doveva stare davanti a regina e qui l'alfiere primo colpo e adesso ci sarà qualcuno che mi aspetta ok ci sono quasi a da prepariamoci un pochino direi che mi stava tengo lancia fiamme abbastanza scarico però magari mi serve siamo sicuramente un coltello ci prendiamo una granata ci prendiamo la piantina ci riprendiamo il fucile con le cartucce facciamoci pure la combinazione di pianta basta detto piantine però così necessario così necessario se ne è tanto una me la dovrò prende sicuramente no dai una la posso sto messo abbastanza male però aspetto ti diventa rosso prima di di prenderla poi magari trovo qualche oggetto quanti spazi di bricio ho tre tre adesso dai che ho bene tre ok ok è una piantina vedi vaffanculo uuuu altra piantina qua brutto segno bruttissimo segno qua chiuso non si sa cosa c'è dall'altra parte sento rumori brutti qua c'è una leva ma sembra spenta ok ok la porta qui non si apre per forza di qua attento ecco mister t da un momento all'altro arriva che qua c'è un'altra porta chiusa un'altra piantina qua è merda allora e combino aspetta nient'altro ok qua se è come con i cani se è come con i cani appena attivo qua mi scoppia il merdone ok vaffanculo 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 e vabbè uuuu uuuu cazzo eccolo diciamo che devo giocare una piantina vaffanculo si dai non rischiamo cazzo oh mpia sempre però come cazzo è fanculo vieni qua ci devo sparare forse è gesù cristo però qua se sta un po' caduto cazzo voglio cazzo vado ho capito che cazzo devo fare adesso porca puttana oh 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 sto bruciando cazzo è ancora vivo è ancora vivo ma crepato con un attimo questo oh cazzo è qua sta seguendo i passi sta seguendo i passi sta seguendo i passi sta segui cazzo qua chiuso che è questo che è questo cazzo 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 C'è una portata della madonna Ma devo già arrivare Culo E' Gesù Cristo però Ah se l'arretivo torna Se l'arretivo torna Dai 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 sbrigati Dai Raffanculo No non ho fatto niente Ok non ho fatto niente Cazzo Dov'è Un'altra E' Gesù però Un'altra volta Ok ho dovuto vittà Destra e sinistra C'è la sua schiena Ditelo che ho dovuto vittà così però Cazzo Vedo proiettili Ah è l'ultimo San culo È accaduto È accaduto Dai Via lo è Niente No cazzo No cazzo X Ah che è qua Che cazzo è la lista sta roba Dove è lancia fiamme però in effetti Ok pare che mi ha sbloccato Passaggio Passaggio Madonna che mai Quanto cazzo Mi ha fatto male Che era un coglione Che Fuggivo in verticale Non ce l'ho dovuto evitare Dall'altra parte Dove sto qua Ah ok Mi ha segno ancora così Perché Perché è ancora rossa Boni Boni eh Ragazzo Ada Sono arrivato Ada Ada dove sei Ehi di qua Ada Mi ha quasi fatto preoccupare Non riesco a toglierlo Non so se dovrei Fallo Non posso camminare così Ok Farà male Ah Aspetta Faccio la sola Sta tranquillo Ok Bene Bene Che facciamo ora Vattene da qui Finché sei in tempo Non ti lascio qui da sola Non così Tu non capisci È peggio di quanto pensassi Non ti libererai di me Mi hai salvato Ora è il mio turno Non pensavo Tenessi il conto Appoggia da zannamo così però Allargarti Ok Io volevo aiutarti Fa' attenzione Vuoi aiutare? Dobbiamo andare al Nest Il Nest? Il laboratorio Sotto di noi Ne parlava Annette I campioni del virus sono lì Te la senti? Non credo di avere altri impegni Avanti C'è del lavoro da fare Sì signora Ok Dove cazzo sta il laboratorio? Non ho capito perché qua mi segna così Dobbiamo aprire qualche porta Andremo al Nest con la funicolare Ok Braccialetto e lascia passare No c'è ragione C'è ragione In prestito Comunque ci siamo quasi Quello mi preoccupa Questi Ho lasciato qualcosa O mi servono questi Però do cazzo Me li metto Insomma devo prendere uno spray Lo su un coltello Mi prendo uno spray Mi sono messi male male Malissimo Anzi più che lo spray Mi prendo Mixed Air Bello È andata stordente Magari la poso Sì Posso Cargare Allora Sta roba Questo avevo fatto Ma Segna sempre rossa Però Maledetta gamba Lascia che ti aiuti No Non sono La tua ragazza Ho capito Vado anche io Il tipo che stava All'anno c'è più Come va La spalla Peggio di come sempre Che bella coppia Entrambi con un piede Nella fosse Qua era la porta Mi pare Sì Troppo tranquillo Qua Qua Potremmo non tornare più Quindi preparati Lì Non ho capito Perché mi è andata rossa Forse c'era qualche altra Videocassetta In giro Non è che posso rifare Tutto il giro Fare strano Non sono riuscito A tornare A stazione Polizia Chissà se c'era il moto Peccato C'è un altro rullino C'è un altro rullino Pure da sviluppare E vabbè Questa vettura È diretta al NEST Non uscire Fino a destinazione Ragione Sai che penso Non vedo l'ora Che l'FBI Mandi in galera Tutti quei bastardi Dell'Umbrella Anch'io Ma sia chiaro Questo non è Di tua competenza È un caso federale Ottenuto il virus G Io me ne andrò Ehi Leon Ti fidi di me? E tu di me? Pensaci A quest'ora Saresti morto Già Ho voluto fidarmi di te E ho fatto bene Se mi porti il virus G Ti assicuro Che non ci sarà mai più Un'altra racconsidina Ah dai L'hai detto anche tu È un caso federale Non ho l'autorità Io Ascoltami Da sola non ce la faccio Sei l'unica speranza che ho Per chiudere il caso Non ti posso abbandonare Se ti attaccassero Se avessi bisogno Gassi linguazzo proprio Ce la farò Non preoccuparti Voglio andare fino in fondo E voglio vederti di nuovo Ho voglia di vivere Credimi Siamo in arrivo al nest Vai Su Non abbiamo altro tempo Ti servirà Ok Leon Conto su di te Lo so Grazie Grazie E se c'è un virus sotto Vieni Devo buttare qualcosa Dove cazzo Stiamo Prima di tutto Qua tanto c'è Un baule Regalata a niente Maledetti Questo forse Mi sono perso il punto Dove Poterlo usare Comunque Il baule Sta qua Dai Non c'è niente Per me A parte Mister X Non c'è niente Veramente Una serie Delle merde Non con due munizioni Per sicurezza Attendere che le porte Siano completamente aperte Certo Per sicurezza Attendere che le porte Siano completamente aperte Cazzo Per sicurezza Attendere che le porte Siano completamente aperte Lenghi Al nest Godetevi La visita Carino Questo nest Questa pianta Non la posso prendere Che posticino Siamo bene C'è andata Forza Questo me sa Che non me lo apre Accesso consentito Solo al personale Uffa Mezza C'è una C'è una scala L'accesso L'accesso È vietato Ai visitatori Cazzo Cazzo Me l'ho già visto Siamo 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 Cazzo, c'era la polvere a sparo però, vabbè, poi ci tornerò quando è un po' più tranquillo. Cazzo, è peggio quella. Ci vedo un cazzo, che sono tornato di qua dall'altra parte, spero che ci riesco a tornare di qua, sennò l'ho presa in culo. Cazzo. Oh no. No, già sono pieno. Che palle. Sì, è fatti, mi sono portato troppa roba. E lasciamo la polvere a sparo. Non c'è nient'altro. Posso combinare con il lanciafiamme? Ah, combustibile per il lanciafiamme, sicuramente. Che è qua? È combustibile per il lanciafiamme, ok. Qua mi servirà qualcosa. Però per forza sto braccietto dovrà... Che lascio? Tolvere a sparo, dai. Questo mi tornerà utile. Che de qua c'è stato quel bastardo, però. Stavo a che munizione che sto per finire? No, di quello c'ho 9, quello 12. Niente. Che sta ad uscito? Cazzo. Cazzo mentre... Oh, manco da qua scoppia il cervello. Culo. Ma vaffanculo, sono un coglione. E la polvere a sparo ormai è andata. Sono lontano e non voglio dire la porta. Tanti sono. Ok, 12 golpi. Lascia una macchina per scrivere. Il direttore Cartwright la desidera con urgenza nell'area est. Ok. Dove terranno il virus G? Non è uscita. Non è uscita. Che è una salvata. Qua la facciamo, però. Qui c'è un altro. Paoletto. Direi che possiamo usare... Almeno un'arma... Ignorante. Eh, così è un fucile. Questo pure mi sa che... Secondo me mi serve più. Ok. Questa che è, botteniamola per il momento. Ok. Siamo abbastanza scarichi. Ma forse non mi serve più. Se l'avevo dentro pure la chiave. Ma l'ho perso due posti. Ok, salviamo. E per il momento ci salutiamo qui. Sperando che non entri nessuno da quella porta. Signore hu settlementi. Allora. Sperto. Signore. Allora. Impossible. Allora. Buott Plastologie. Wasperto. Di ricchezza.